Siamo qui in diretta dal K-Stadium Super Cup ingresso in campo PP Team contro la formazione Bayer Mazzeschi è dal centro del campo squadre che ora passano a darsi 5 Per l'incontro Sanziano con i due campiani a sotteggiare il tocco per la valla per il campo Sotteggiare di valla e campo possiamo dare inizio al match un saluto da Potencia ragazzi Per l'incontro Sanziano con i due campi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.